Il parco Tredenti Freidur è un'area protetta di interesse provinciale e ha una superficie di 820 ettari. È ricca di vette, dai Tredenti al Freidur, di aree per ristoro, la pradera, di costruzioni per l'accoglienza, la casa dei cavatori ed è anche ricca di sentieri e strade sia per le passeggiate sia per le mountain bike. Diciamo che abbiamo valorizzato ulteriormente l'importanza del parco con il grande incendio dell'ottobre-novembre del 2017 quando abbiamo visto tante associazioni di volontariato e tanti comuni cittadini che si sono impegnati attivamente in quei giorni per dare una mano per fermare questo immesso incendio. Io credo che questo sia un dato importante e che significa che il parco è una realtà vera, sentita e soprattutto accettata dai cumianesi che lo vogliono mantenere e migliorare per il futuro. Il nostro Monte San Giorgio è la prima propagine della catena montuosa. Vederla per i più saschesi vuol dire essere arrivati a casa. L'intera area del Monte San Giorgio è parco da 15 anni, è spazio vitale per le specie vegetali ed animali ed è luogo vissuto, rigenerante per i tanti bambini, ragazzi, adulti che in qualche modo lo frequentano sia come palestra a cielo aperto sia come abbraccio all'aria. L'impegno della nostra amministrazione non può essere quello che di custodirlo e consegnarlo biologicamente più vario e più bello. Il parco della Rocca di Cavour è una risorsa importante per tutti i cauresi ma anche per tutte le persone che vogliono venire a visitarlo. Offre infatti molti spunti interessanti dal punto di vista naturalistico, storico e paesaggistico. Come amministrazione chiaramente cerchiamo di andare a proteggere questo grande patrimonio, di difenderlo e allo stesso tempo di valorizzarlo perché è giusto andare a proteggere le aree naturali ma è giusto anche permettere che le persone possano goderne in modo pieno. Come dicevo, la nostra attenzione grazie anche all'aiuto e al supporto di molti volontari che operano in modo costante sulla Rocca per il mantenimento dei sentieri, per la pulizia e anche per la valorizzazione stessa delle peculiarità, cerchiamo quindi di aumentare e di rendere ancora più fruibile questo nostro parco. Benvenuti nella riserva provinciale dello Stagno di Ulss. Il comune di Ulss vanta addirittura sei SIC, sei siti di interesse comunitario, quindi un comune molto ricco dal punto di vista naturalistico. Uno di questi SIC appunto è lo Stagno dove ci troviamo, noto alla popolazione come Lago Borello. Il rapporto tra la cittadinanza e il lago è un ottimo rapporto, nel senso che questa riserva che appunto oggi compie il suo compleanno è molto conosciuta e molto apprezzata dagli abitanti di Ulss e delle sue frazioni. Qualunque giorno dell'estate qui troverete sempre qualcuno che viene a passeggio, viene a vedere le libellule, a vedere i gamberi di fiume, a prendere semplicemente il sole. Quindi è una delle rarissime aree di palude, di stagno ancora rimaste nei fondovalli delle Alpi, quindi un'area di particolare pregio, ma soprattutto è un'area che è oggetto di un forte utilizzo. Il Parco del Coldellis è nato ormai da parecchi anni, non senza qualche ostilità e apprezzione da parte della comunità, che vedeva il parco un po' come un vincolo, una limitazione. Attualmente il parco viene vissuto in maniera diversa perché effettivamente si sono scoperte le potenzialità che questo parco offre. Nel parco del Coldellis ci sono due perle. Una è una perla legata alla flora, infatti nel parco fiorisce nel mese di maggio una specie endemica che è l'euforbia gibeliana. E poi ci sono alcune delle rocce più antiche della terra che sono appunto le peridotiti. Attualmente il parco è favorito anche dal punto di vista della conoscenza dal Comitato Resistenza del Coldellis, che ogni anno porta sul colle circa 3.000 ragazzi delle scuole. Forse da parte della comunità c'è una limitazione che oggi viene vissuta con qualche difficoltà, specialmente da parte di chi ha fatto delle ottime ristrutturazioni di alcune baite. La strada che percorre il parco è infatti vincolata ai sensi della legge regionale 45. Tuttavia il fatto che il parco abbia un ingresso limitato sicuramente ne favorisce la protezione e la tutela. Da qualche anno è nata l'Unione Montana-Alpigraie che unisce i comuni di Viu e Rubiana che sono confinanti e una delle ragioni per cui questa unione è nata è proprio quella di favorire una gestione unitaria del Coldellis. Un parco importante per la nostra comunità anche se bisogna ancora farlo conoscere e farlo visitare a molti dei cittadini di Rubiana perché oggi se parliamo con i ragazzi delle scuole elementari probabilmente non tutti conoscono la nostra famosissima euforbia gibeliana che cresce praticamente solo nel nostro parco se non in un parco vicino. Nell'Unione Montana-Alpigraie dove si uniscono i comuni di Viu e di Rubiana il Coldellis è importante anche per la resistenza e quindi per il comitato Coldellis che sviluppa il territorio portando i ragazzi delle scuole su cui dobbiamo puntare per fare non solo ricordare quello che è successo al Coldellis e ai partigiani ma visitare un territorio pieno di biodiversità. Questo è il nostro scopo, la nostra idea di futuro del Coldellis che insieme alla città metropolitana, al comitato Coldellis, agli operatori turistici, all'Unione Montana e naturalmente i due comuni che tengono insieme il parco svilupperemo sicuramente negli anni un progetto che unisce la cultura, la memoria, il ricordo e soprattutto speriamo nuove attività che andranno dal outdoor al trekking, alle ciaspole, allo sci di fondo che diciamo che siamo in un territorio dove unire tutte queste cose all'interno di un parco e di una zona montana è importante per lo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio.